Qui hanno provato e riprovato ad entrare? Sì, qui il tentativo è stato molto lungo, perché come si può vedere anche dall'immagine della porta è molto danneggiata. Doppio assalto nella cuore della notte e alle porte del centro Aretino, due infatti tentativi di furto in altrettanti esercizi commerciali. È successo in Viale Dante Alighieri, nelle Mire dei Ladri, un negozio di un parrucchiere ed uno studio di architettura. Ho tentato di entrare nel negozio del barbiere e non so cosa cercavano, forse non lo so, volevano farsi la barba, non saprei. Per fortuna, grosso danno ma senza portare via nulla. Fortunatamente sono risultati vani i numerosi tentativi dei malviventi che si sono dati alla fuga a mani vuote, anche se restano ben visibili i danni che si sono lasciati alle spalle. Mi sono molto arrabbiato, diciamo, perché sono sentito, anche se non sono entrati dentro, però è come se quando violano proprio io vogliono entrare dentro, rubare via, insomma, è una cosa che poi purtroppo ultimamente ne sta succedendo troppe. Sull'episodio stanno indagando gli agenti della questura di Arezzo, sul posto questa mattina anche la polizia scientifica per alcuni rilievi. Dobbiamo sicuramente, per forza, mettere delle telecamere di videosorveglianza, perché altrimenti qui credo che non ci salviamo più, perché nel giro di pochi mesi hanno già tentato due volte e uno l'anno scorso. Vediamo, per fortuna non sono entrati, è chiaro, la paura è tanta, speriamo non ricapiti più. Grazie a tutti.